Siamo sotto il lembio di Giunale, all'ingresso della città di Agrigento, cioè alla rotonda che va verso Porta Inbergo e verso Calcanusseggia. Guardate che bella l'intenzatura. Siamo proprio all'ingresso, cioè i turisti che vengono da Siracusa, da Gela, da Racusa e ne vengono parecchi, quando arrivano proprio sotto il Tempio di Giunale, trovano questo bellissimo biglietto, un cartello che è indietro al posto dove ci troviamo e questo è quello che i nostri amici turisti vengono a trovare proprio in parte della nostra città. Non vi dico che la gioia e la sorpresa di vedere la condizione che si presenta proprio davanti la porta di casa, come all'ingresso di una bella villetta, trovare questo cumulo di spazzatura e di montizio. Io non so di chi è la competenza che deve restire di questo posto. Cosa ci vuole ad adoperarsi per fare pulire proprio l'ingresso della nostra città. Vi lascio la visione di questi due bellissimi sacchi di spazzatura nera e di altri sacchetti di spazzatura catalinca e vi mando un gran saluto.